GF VIP, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria le è mai piaciuto, vuole solo fare spettacolo. Antonella Fiordelisi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del GF VIP. L'ex schermitrice, per un motivo o per un altro, è sempre al centro dell'attenzione e i telespettatori sono divisi sul suo conto, c'è chi ritiene che dovrebbe vincere il programma e chi invece pensa che non dovrebbe nemmeno arrivare in finale. Sicuramente la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria ha fatto molto parlare. Soprattutto il suo ex fidanzato Gianluca ben in casa. Su Twitter l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha svelato nuovi retroscena sulla concorrente, Antonella non è mai stata innamorata di Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama Edo Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l'unico momento in cui l'ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la murgia. Anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme. Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie guarda sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi. Lei mi aveva promesso io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta. Perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato. Nel frattempo, all'interno della casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha vissuto una storia d'amore, molto travagliata, con Edoardo Donnamaria. In questo momento i due stanno vivendo una crisi anche se i fan sperano in un riavvicinamento prima della fine delle reality show. Ma i nesigur nu-i la fel, trage de mine caratterul meu de fierb, ca baie ploaie vand nici un curcubeu, da ce ca toate astea-s doar in capul meu. Si zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cat ai intarziat deja, arunca spate visele intr-o geanta si pleaca, nu grabește-te ca trenul asta nu așteapta. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva, inchide ochii, poti imagina ca lumea e a ta si in plus, poti sa sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, când è sus, când è sus, când è sus, când è sus, pot eu sa sari. A buonga nu